Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua anche oggi con un nuovo video e oggi siamo qua di nuovo con un Dolls News. È difficilissimo starci dietro, ne escono veramente valanghe praticamente ogni giorno. Non faccio in tempo a fare uno di questi video che ne hanno già pubblicate di nuove, quindi non lo so, faccio fatica a starci dietro. E anche oggi ne abbiamo un bel po', quindi cominciamo subito e speriamo di riuscire a vederle tutte. Per prima cosa ci tengo a dirvi che ragazzi finalmente Asbro va fuori dai coglioni. Fatemelo dire proprio così, liberatorio, vaffanculo, perché non se ne può più delle bambole di Asbro che per me fanno cagare. È vero che la cosa è rischiosa perché va via Asbro e arriva qualcun altro, perché non so se lo sapete già, molti di voi sicuramente già lo sapranno, Asbro ha perso i diritti sulle bambole Disney e li ha ripresi Mattel. Quindi dal 2023 tutta la linea delle principesse Disney e la linea di Frozen saranno prodotte da Mattel. Bisogna incrociare tantissimo le dita perché le ultime bambole di Mattel per la Disney non è che fossero proprio questo granché, però insomma speriamo che almeno migliorino con fronte alle Asbro, perché ragazzi andare nei reparti Disney, nei negozi adesso, è veramente triste, sono una più brutta dell'altra, sono una più fake dell'altra, sembrano delle cinesate. Ma partiamo subito, prendiamo il mio telefono e partiamo subito a vedere tutte le novità che ho trovato. Per prima cosa voglio proprio parlarvi di un'uscita Asbro, perché ovviamente sapendo questa cosa dovranno spararsi le ultime cartucce prima di sparire definitivamente. E infatti nel 2022 è in uscita una edizione speciale della Style Series. Cosa è successo? Oddio che palle! Ne va dritta una ogni tanto? Scusate ma è tipo esploso il mio schermo, infatti non riesco più a vedermi, devo guardarmi in camera pregando di essere dentro l'inquadratura. Oggi ne stanno succedendo di tutti i colori, comunque vabbè speriamo che poi il mio schermo si riprenda perché è molto comodo e molto utile soprattutto per uno che è miope come me. Comunque vi stavo dicendo che deve uscire appunto questa Jasmine della linea Disney Princess Series, penso che sia nella linea Style, e a vederla così non è male, però è sempre la solita Jasmine di Asbro, con il corpo orrendo di Asbro, con il mondo orrendo di Asbro e quindi boh. Ma assieme a lei Asbro ha anche annunciato l'uscita di una Ariel. Un Ariel credo sempre della stessa linea, non ho trovato molte informazioni, ma questa volta ha un vestito diverso da prima, un vestito che richiama, come vedete dalle foto, la forma di una sirena. Quindi probabilmente Asbro ha capito che forse Ariel deve ricordare un po' il mare, deve ricordare un po' una sirena, visto che è una sirena. Ma andiamo avanti con altre cose, perché dare troppa importanza ad Asbro e alle sue bambole scadenti non mi va, ma te le sta proseguendo sulla scia delle bambole, diciamo, diversamente abili, e di questa cosa ne sono molto, ma veramente molto contento, perché sono un'idea che sapete ho sempre apprezzato fin dall'inizio, anche se ho paura che sia più per un discorso economico, un discorso di ritorno economico, più che per una cosa effettivamente con dei secondi fini buoni, non so se adesso spiegarmi, ma penso abbiate capito. Comunque devono uscire una serie di Chelsea in carrozzina. Ci sarà quella bionda, quella mora, quella nera, insomma ce ne saranno diverse, dovrebbero essere tre se non sbaglio, e avranno appunto la carrozzina e la pedana, proprio come Barbie e Ken, che sono stati già realizzati negli scorsi anni con la carrozzina. Ripeto, questa cosa mi fa molto piacere, anche se spero che le intenzioni siano solamente buone, solamente realmente buone e non con per forza un ritorno economico, anche se ovviamente ci sarà, ma fa niente. Ma, e qua mi piange già il cuore tantissimo, stanno per uscire le Mermaids, mi pare si chiamano Mermaids, insomma la nuova linea di bambole di MGA, ho un dubbio cazzo, sono di MGA è vero? Sì, in teoria sono di MGA, sono praticamente delle sirene, ma ragazzi guardate che sirene. Allora, vi dico che le ho guardate bene, ce n'è una che mi fa impazzire di viso, un'altra che mi piace la coda, una dove la coda mi fa schifo, l'altra dove mi fa schifo il viso. Quindi sono un po' così così, perché ad esempio ce n'è una che ha la coda fatta tutta che sembra fatta di stoffa, con la cerniera proprio sulla pinna finale e la cosa non mi piace. Però per il resto hanno dei visi bellissimi, sembrano tutte con la bocca rifatta, hanno gli occhi piantati come le Rainbow High e non lo so, sembrano veramente una figata e mi toccherà spendere altri soldi, so già che spenderò altri soldi, lo so io. Non ho capito però se queste bambole avranno o meno le gambe, perché sembrano avere tutte la coda fatta di stoffa, almeno a quanto sembra dalle immagini, ma con la pinna finale di plastica. Quindi credo che saranno solamente sirene senza le gambe, ma comunque ragazzi sono bellissime e le voglio già tutte. Poi andando avanti, come vi ho già detto, deve uscire la linea Queen, Queens, una cosa del genere, delle LOL OMG. Finalmente sono uscite le bambole in scatola, con delle foto di stock, delle foto fatte bene. Ve le lascio qui perché abbiamo la prima che è Miss Divine, poi dopo Miss Divine c'è Prism, che mi ispira un pochino meno di Miss Divine, perché Miss Divine con i colori eccetera mi piace un pochino di più. Invece Prism con queste strisce che ha in testa, proprio con queste strisce, sono proprio strisce rosa e azzurre, non mi convince del tutto. Poi abbiamo Swayze, si legge Swayze, che è quella che finora mi ispira di più, che ve l'ho già detto anche l'altra volta, è talmente particolare, talmente strana che mi sembra tipo una strega voodoo. Poi c'è Rano e Diva, che anche lei è molto carina, anche se effettivamente dall'artwork a quella che poi è stata realizzata, c'è un po' di differenza, ma comunque sicuramente mi piacerà. E poi l'ultima è Splash Beauty, che arriva con un playset, non è un playset, con un pack diciamo più grosso, con appunto degli accessori in più, degli outfit in più eccetera. E a sostegno di questa linea, come sapete MGA con le LOL OMG, fa sempre LOL OMG assieme a un'uscita LOL Surprise, come le Movie Magic, come le Dance Dance Dance, come insomma tutte le linee OMG hanno sempre anche la linea LOL Surprise. Infatti in questo caso uscirà la linea LOL Surprise Queens. Le ball saranno molto semplici, saranno le solite ball solo con la scritta Queens, e le bambole saranno 12. Credo che siano viste così, delle bambole abbastanza riciclate, a cui hanno messo tipo le coroncine, dei vestitini e dei colori un po' diversi, ma comunque ci saranno anche queste. Io non credo che le acquisterò, perché non mi interessano particolarmente, acquisterò sicuramente le OMG, ma no. E a proposito di OMG, anche qui da noi, da Toys, stanno iniziando ad arrivare le nuove OMG re-inscatolate, con la scatola nuova. Potete già iniziare a trovarle appunto da Toys, costano tipo 10-12 euro in meno di come costavano all'inizio, probabilmente perché appunto la scatola è molto più semplice e ci sono degli accessori in meno. Andando avanti, passiamo un attimo a Barbie, dove troviamo la Holiday Fun, si chiamerà così a quanto ho capito, questa bambola, che boh, non lo so, non capisco perché abbia questo costumino con sulle tette una farfalla, l'altro vestito tutto con le farfalle, questo cappellino, non lo so, è tutta rigida, sembra uno stoccafisso vestito con le farfalle, ma perché? 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 Invece ne uscirà anche un'altra con il motorino, con uno scooter, e dovrebbe chiamarsi questo playset, travel playset, una cosa del genere, dove appunto vediamo che c'è lo scooter, il motorino, un cagnolino, un vestito con dei pantaloni non opinabili di più, perché sono imbarazzanti, non sono neanche anni 70, sono proprio merda, e poi ci sono tipo un marsupio, una macchina fotografica, degli occhiali, tutto ovviamente molto riciclato, una cartina geografica, degli sticker, pare, la mascherina, qualche altro accessorio, tipo il telefono, la bottiglia, la ciotola per il cane, insomma, niente di entusiasmante. Ma, ma, e queste le hanno proprio annunciate, tipo la sera in cui ho pubblicato il video dello scorso Dolls News, devono uscire le Barbie Cutie Reveal. Queste qui vi dico che finalmente posso dire che sono incuriosito da una Barbie Reveal, di questa linea dove devi scoprire la bambola, perché effettivamente queste sono molto trash, ma sono anche carine, perché arrivano dentro il solito bussolotto tipo Color Reveal, ma non sono da mettere in acqua, semplicemente, come vedete, sono vestite da pupazzi, c'è il topo, il coniglio, il panda e la tigre, penso il gatto rosso o una cosa del genere, dove all'interno, appunto, c'è la Barbie. Sono quattro Barbie diverse, vi lascio comunque qui le immagini che scorrono, e sembrano carine, sembrano addirittura avere le gambe articolate, quindi speriamo, almeno da questa foto hanno le gambe articolate, costeranno tipo 45 euro, credo. Avranno ovviamente il color change del viso con l'acqua calda e fredda, però sicuramente una di queste proverò ad acquistarla. Spero di trovare quella che preferisco, vediamo tra queste, non mi dispiace, la neretta, ovviamente, ma anche Barbie sembra carina, ma sembrano tutte carine, a parte quella nera e rossa, le altre potrebbero piacermi tutte. Come minimo io troverò quella nera e rossa, quella del panda, che comunque quella che dicevo che era un topo, probabilmente o è un cane o è un koala, ma vabbè, dettagli. Mattel, assieme a questa roba Maisie, Willen, non so come si legga, ha creato degli orecchini con il logo Monster High. Costano 50 euro e sono degli orecchini, a quanto ho capito, veri, degli orecchini per noi umani con il logo Monster High. Quindi questo ci fa capire sempre di più quanto il brand Monster High non sia stato chiuso e cerchino pian pianino di rilanciarlo. Speriamo, perché un po' mancano le Monster High, almeno a me un pochino mancano. Non so voi, scrivetemelo qui sotto, vi mancano le Monster High. Andando avanti, l'altra volta vi ho cazzato così in mezzo, perché appunto le hanno annunciate dopo, Tiana e Aurora, della linea Disney Designer Collection, The Ultimate Princess Celebration, sempre quella cosa infinita. E visto che l'altra volta vi ho lasciato solamente una frase, vi dico che Tiana, secondo me, sarà molto, molto, molto bella. La sto aspettando, perché come sapete le sto acquistando tutte quelle di questa linea. Non vedo l'ora che arrivi e non vedo l'ora di recensirvela, perché credo che potrebbe stupirci. Dalle foto sembra molto ricamata, sembra avere un vestito disegnato molto bene, sembra avere uno stile che le si addice anche particolarmente. A differenza di Aurora, che da una parte mi fa dire bella, molto bella, dall'altra non mi colpisce, perché non riesco a capire come sia fatta la sua gonna da queste immagini, perché sembra che all'interno della gonna abbia un qualcosa. Ma poi, conoscendo il Disney Store, sappiamo che modificano le foto a cazzo, e quindi non si sa. Il viso è strano, è particolare, quindi non lo so. Purtroppo Aurora, da una parte, ripeto, mi viene a dire bella, dall'altra devo sicuramente aspettare di vederla dal vivo, per poi darle un giudizio, perché così non saprei davvero come commentarla, se dire bella oppure no. Sempre sulla linea delle bambole diversamente abili, abbiamo un'altra nuova Barbie, con la gamba bionica, e sarà Barbie Interior Designer. So che si dice protesi, ma a me piace dire gamba bionica, perché mi sembra quasi di dire che queste bambole hanno un qualcosa in più delle altre, come se avessero un superpotere, ecco. E anche in questo caso, purtroppo ci resta un po' male, perché abbiamo lo stesso solito corpo Fashion Instance, quindi super stoccafisso, super rigido, con un vestitino semplicissimo, delle scarpine semplicissime, un tablet semplicissimo, un pezzo di carta semplicissimo, quando potevano magari per una volta fare questa gamba, questa protesi o questa gamba bionica, come piace chiamarla a me, articolata e rendere questa bambola, non dico una made to move, perché magari fare un'articolazione made to move su una protesi è difficile, ma avrebbero potuto comunque renderla un pochino più posabile. E secondo me sarebbe stato più bello, sarebbe stata più carina. E poi ragazzi, io non riesco più a comprendere perché Mattel si ostina a fare queste facce così slavate, così semplici, quando una volta le Barbie erano sempre truccate molto bene, con dei bei rossetti, dei bei trucchi, adesso no, sono sempre più slavate. Ed è anni che è così e non capisco. E non capisco perché continuino, visto che poi andiamo a vedere MGA e vende bambole iper truccate, con mille colori sugli occhi, con rossetti assurdi, glitter ovunque, ne vendono avalanghe e Mattel continua a fare bambole di questa semplicità che è imbarazzante, a parte le scatole. Questa faccia è veramente tristissima, io non lo so, non capisco. Comunque, proseguiamo che non voglio metterci 12 anni. Uscirà un Funko Pop in esclusiva di Ariel, tutto completamente trasparente. Secondo me hanno preso l'idea dai pop dei Patronus di Harry Potter, che sono fatti appunto di plastica azzurra semi trasparente, e adesso faranno anche Ariel, che sarà un'esclusiva in limited edition, ma la genialata è il fatto di prendere questo tipo di plastica per far finta che sia fatta d'acqua, secondo me. Carina, non mi entusiasma, soprattutto perché è una forma, è uno stampo, diciamo che hanno già utilizzato, perché questa Ariel era già uscita, non ha una posa diversa in niente, è esattamente quella che ho io, magari avrebbero potuto girarla quello dall'altra parte, non lo so fare, sapete quel qualcosina per diversificarla, invece no, però comunque sembra carina. Passiamo invece alle Bratz, perché ho visto che, sapete che a me non interessano, ma è giusto che io ve lo dica, deve uscire una nuova Bratz, che non è una nuova Bratz, come per le altre, per il ventesimo anniversario, uscirà la Bratz Sweetheart. Penso che sia per San Valentino, credo che sia una cosa del genere, ed è appunto un rifacimento di una bambola già uscita vent'anni fa. Semplicemente ne hanno fatto una nuova riproduzione e uscirà quest'anno. La trovo brutta, come tutte le Bratz, e non ho altro da aggiungere. Poi, questa so che è già uscita, so che è già sold out, ma devo parlarne. Devo parlarne. Cioè, ed è già tanto che non bestemmio e non dico parolacce, anche se qualche parolaccia probabilmente mi scapperà. Perché ragazzi, il Disney Store ha messo in vendita, solo in America, una bambola in feltro di Belle, molti di voi l'avranno già vista, e l'immagine è quella che state vedendo adesso. Qual è il problema? A me non piace. E ok, può piacere come non piacere. Tutto può piacere come non piacere. Il problema è il prezzo. Perché costava 1395 dollari. Adesso io posso capire tutto. Posso capire la qualità. Posso capire la ricerca. Posso capire la realizzazione. Tutto quello che volete. Ma 1400 dollari per una bambola di feltro? Ma neanche fosse fatta a mano con i fili d'oro, cazzo. Cioè, ma stiamo scherzando? E l'hanno venduta tutta? Hanno fatto sold out in pochissimo tempo? Capite quanta gente al mondo c'è con i soldi da buttare via? Capite quanta gente caga i soldi? Cioè, io non lo so. Vorrei anch'io essere come questi e andare al cesso e cagare monetine da un euro. Invece che dovremmi smazzare per prendere due soldi per le designer. Cioè, ragazzi, hanno fatto sold out. Non mi ricordo quanti erano. 50, 500, non lo so. Non erano comunque tantissime. Ma 1395 dollari? È follia ed è pure brutta, almeno per me. Poi la qualità, sulla qualità non ne parlo, perché la qualità, non avendola mai vista, magari ha la qualità più alta di questo mondo. Ma comunque siamo a 1.400 euro. E ha fatto sold out. Comunque, esattamente come per le cutie reveal, anche questa bambola è stata annunciata allo stesso giorno in cui ho pubblicato l'altro video. E sto parlando di Miss Celebrate, delle LOL AMG. Devo dirvi che è forse la prima LOL AMG che non capisco se mi piace o non mi piace. Perché solitamente o mi piacciono o non mi piacciono. Le compro lo stesso. Però, insomma, so dire se mi piacciono o non mi piacciono. Questa non capisco, perché da una parte ha delle cose che mi piacciono moltissimo, tipo il vestito. Dall'altra, non so perché il suo viso, con quegli occhiali, con i capelli fatti così, mi sembra una nonna. Comunque, insomma, le immagini sono qui. Ho visto che qualcuno ce l'ha già, e l'ha già anche recensita, e non ho capito come. Secondo me c'è qualcuno qui su YouTube che non dice la verità, che magari lavora in qualche giro strano, tipo magari lavora dentro MGA, o lavora dentro Mattel, non lo so, e riesce a avere le cose in anteprima. Però, insomma, fatto sta. Io non so quando e se riuscirò a prenderla. Ma comunque mi attira moltissimo, anche se appunto non riesco a capire. Ma proseguiamo veloci, perché se no ci mettiamo troppo, devono uscire delle nuove Nanana Surprise, che sapete che anche queste non mi piacciono, ma ve lo dico perché è giusto che ve lo dica, della linea camping. Quindi saranno queste Nanana, con il sacco a pelo e altri accessori. E io qui ne ho trovate due. Una completamente rossa, che credo sia ispirata ad una volpe, e un'altra invece con i capelli castani, ispirata sicuramente a un cervo. Carine, ma niente di che. E secondo me non stanno neanche vendendo troppo bene, visto che in un negozio, quelle con la famiglia, adesso non mi ricordo, perché non seguendole non so bene tutte le uscite, ma in un negozio ho visto che una linea, che dovrebbe costare 45-50 euro, l'avevano già messa a 25 euro, ma un pacco di quelle grosse. Quindi boh, forse non vanno proprio tanto bene le Nanana. Ma in ogni caso, andando avanti, dovrebbe uscire un nuovo playset Barbie Extra, che proprio playset non è, perché mi sembra una roba... non lo so... in teoria è tipo un giochino da sala giochi, tipo dove ci cazzi dentro tutti gli accessori, e schiacciando il bottoncino, vengono giù un po' di accessori a caso. Ovviamente arriva con diversi paie di scarpe, con colanine, con degli appendini, con il cagnolino... non lo so... secondo me le Barbie Extra le hanno iniziate bene, stanno andando proprio a far schifo. Stanno scendendo sempre di più nell'etame, almeno per quanto mi riguarda. Questi playset, questi set, queste cose, sembrano proprio delle grandissime minchiate. Vabbè, questa ve la faccio vedere, anche se non è proprio una nuova uscita. La nuova Kia Heart, delle Rainbow High, sarà più semplice. In questo caso vi mostro una foto del fatto che non avrà le tasche dietro nel sedere. Questo vi fa capire che anche Rainbow High, come marchio, sta iniziando ad andare un pochino più al risparmio. La cosa non mi piace molto, non mi fa molto piacere, anche perché ho appena praticamente cominciato ad acquistarne qualcuna, questi cominciano già a togliere gli accessori. Però ragazzi, è così. Anche loro stanno iniziando a lasciare ovviamente gli stessi prezzi, ma ad abbassare la qualità. E questo rifacimento di Kia Heart, questa riedizione più semplificata, non mi piace per niente. Sono contento di aver preso la prima, perché effettivamente questa ha anche le cuciture stampate e non cucite realmente. Spero che questo non sia l'andazzo di MGA, perché sarebbe un gran peccato. Tornando ad Asbro, come vi dicevo, sta sparando gli ultimi colpi, e abbiamo anche questa belle, con un vestito, un multivestito, un qualcosa di non so cosa sia. Praticamente ha un vestito che si può modificare, credo, girando la gonna, abbassando la gonna, girando il vestito, cioè tipo un double face, un mix and match, boh vabbè, la vedete, è tristissima, è imbarazzante, e andiamo avanti. Usciranno delle nuove Barbie sirene, molto semplici, qui ho trovato un'immagine che non so di preciso se avrà un qualcosa di speciale, se quella coda che vediamo sarà una coda intercambiabile, non lo so, ma comunque questo ci fa capire che usciranno nuove Barbie sirene. Ma arrivando verso la fine di tutte queste novità, volevo farvi vedere questa bambola, che so che è già uscita da un po', è stata annunciata da un po', ma l'altra volta non ve ne ho parlato perché me ne sono dimenticato o perché era appena uscita, non lo so, me l'ero persa, è della Barbie di Mattel per il Capodanno cinese, l'anno della tigre. Vorrei solo farvi vedere un piccolo confronto che hanno già fatto moltissimi, ma voglio farlo anch'io, tra lei e la Rainbow High di MGA. Io non so, penso che le immagini si commentino da sole, perché effettivamente c'è un abisso, il costo più o meno è uguale, se non addirittura, se non ho capito male, quella di Mattel costa di più, ma non ci siamo proprio, cioè mi dispiace, no, anche no. Ma vabbè, insomma vi ho fatto vedere anche questa, vi faccio vedere la penultima cosa e poi dobbiamo parlare un attimo di... ne parliamo dopo. Deve uscire, o è appena uscita Okiai, di Disney Store, Shop Disney, quel cazzo che è, non si capisce più se è Shop Disney, Disney Store, Disney, Disney, basta, non lo so, che dovrebbe essere tratta da un film che c'è su Disney Plus, non lo so di preciso, perché non l'ho visto, è una cosa che non mi interessa vedere, magari la guarderò, non lo so, ma per ora non so nulla. Ho trovato questa bambola e non mi piace molto, è una special edition, in teoria è già disponibile sullo shopdisney.com, non so se è anche qui da noi, perché appunto non interessandomi non vado a cercare, però non lo so ragazzi, cioè queste specie di live action hanno perso un botto con fronte una volta, io mi ricordo che ho comprato tutte le live action Disney che trovavo di Cinderella, della Bella e la Bestia, che per quanto quella di Belle sembrasse un mix tra Justin Bieber e Nicolas Cage, però erano fatte benissimo. Queste qui, boh, non lo so, magari poi è, guardando il film, la serie, quel cacchio che è di Okiei, magari sarà perfetta, sarà ugualissima, identica al personaggio, ma vista così, secondo me no. Comunque, andando a parlare dell'ultima cosa che sinceramente mi fa un attimino dire cazzo, ma perché? Mattel ha creato con Balmain, Balmain, una cosa del genere, Balmain, boh, sei look per Barbie e anche per Ken, quindi sono cinque per Barbie e uno per Ken. Vi faccio vedere qui i vari look, non ho capito come siano stati venduti, so che ne hanno realizzati solamente pochissimi pezzi per ogni look, vendevano da quanto ho capito solamente gli abiti e solo in un modo particolare, non ho capito una mazza, vi devo dire la verità, di come fossero venduti, ma voi guardate questi outfit, guardate questi vestiti, guardate la qualità, i dettagli, le stoffe, i tessuti, guardate il mega fiocco che ha Barbie, che trovo essere stupendo, l'avrei comprato subito, oppure il completo di Ken che è bellissimo, a parte che è tutto rosa ed è un bel punto di rosa, mi piace molto, ma sono fatti benissimo, addirittura questo qui, giacca e pantalone di jeans rosa, ha addirittura le taschine che fuoriescono da sotto la gamba del pantalone, quindi voglio dire, se Mattel riesce ancora a fare queste cose, perché non farlo anche sulle bambole da collezione, almeno, non pretendo di farlo sulla playline, non pretendo di farlo sulle fashionistas, anche se non sarebbe male, ma cazzo, almeno farlo su quelle da collezione, no, lo fa solo per sei cazzo di outfit venduti in un cazzo di modo che non si capisce, almeno io non l'ho capito, se voi l'avete capito scrivetemelo qui sotto, vi prego, datemi spiegazioni perché non ho capito, e non lo fa per nient'altro, sono senza parole, quando escono le Monster High Scollector, quindi di edizione limitata, edizione da collezione, eccetera, non hanno questi cazzo di dettagli, quando escono le Barbie da collezione, come la Pink, non mi ricordo che cazzo di Pink fosse, non è fatta in questo modo, ma io, cioè, mi possono girare i coglioni, soprattutto perché questa qualità è quella che ci dà MGA tutti i giorni nelle LOL, nelle Rainbow e in quasi tutte le sue bambole, a parte le dreamella, che, ok, vabbè, le dreamella non sono bambole, sono merda, ma voglio dire, perché non ce la facciamo, perché Mattel non fa questa cosa, vendici le Barbie a 3-4 euro in più, ma dacci una cazzo di cucitura come queste, per Dio, no, loro no, fanno schifo dappertutto e poi vanno a fare questa collaborazione che, ripeto, non si è capito come comprarla, non si è capito niente, si è capito solo che sono bellissimi, fatti benissimo, che pagherei per avere tutti quei vestiti di quella collezione, ma che saranno probabilmente impossibili da recuperare, quindi io non lo so, mi viene solo che il nervoso, perché sono cose assurde, ma evidentemente avranno loro buoni motivi per fare così, sarà una loro strategia di marketing inspiegabile, visto che una bambola con più qualità credo che sia anche una bambola che si vende di più, e invece no, facciamo le collaborazioni con Balman, Balman, quel cacchio che è, e vendiamole in modi assurdi. Detto questo ragazzi, anche oggi vi ho fatto vedere tutte le cose che ho trovato, tutte le novità che ho trovato, spero di averle trovate tutte, ce la farò magari una volta ad averle trovate tutte, sicuramente no, ma io ci continuerò a provare. Quindi fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate, spero come sempre ovviamente che questo video vi sia piaciuto, che vi sia tornato utile, fatemelo sapere qui sotto con un like, iscrivendovi al canale se ancora non l'avete fatto, e se vi va ve lo dico sempre, seguitemi anche su Instagram e TikTok, anzi oggi vi dico non se vi va, fatelo e basta per piacere dai, voglio vedere che mi arrivino qualche follower sia su Instagram che su TikTok, fatemi questo regalino, non vi costa nulla. Detto questo ragazzi, come sempre io vi saluto, vi mando un bacione enorme e noi ci vediamo al prossimo video. Mua!